Nel segno della tradizione e della continuità, inaugurata la mostra d'arte contemporanea Brocche d'Autore 2019 presso il Museo delle Brocche d'Autore Iceri Enjoy & Share in via Baldassini per delle collezioni allestite anche nelle vetrine dei negozi del Centro Storico. Giunta alla diciottesima edizione, l'esposizione, che rimarrà aperta fino al 2 giugno, è organizzata dall'Associazione Maggio Gubino e resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Gubbio, nonché con la partecipazione di Buongiorno Ceramica, Camera di Commercio Perugia, Gubbio Cultura Multiservizi e Gubbio Facentro. Presenti all'inaugurazione tra gli altri il Vescovo Monsignor Luciano Palucci Bedini, il Sindaco Filippo Stirati, il Prefidente del Maggio Gubino Lucio Lupini e l'esperto d'arte Ettore Sannipoli, ideatore e curatore della mostra. I contributi artistici per quest'anno sono del leugubino Alessandro Campanella, del Derutese Marino Ficola e dell'iraniano Abbas Akbari, in un evento sempre più trasversale e multiculturale per un'arte che si perde nella notte dei tempi. Abbiamo avuto un rapporto interculturale che speriamo di coltivare anche negli anni venturi e che già abbiamo coltivato in precedenti edizioni, ospitando artisti da Cuba, dall'Australia e da altri luoghi del mondo. Proprio per far vedere l'universalità di questo tipo di espressione artistica che è forse una delle tecniche più antiche e più connaturate con il DNA dell'uomo. È una tecnica che risale al Neolitico, che ha rapporti con un'invenzione formidabile che è quella del motorotatorio, del tornio, la ruota, eccetera. Quindi la ceramica non è soltanto una peculiarità di gubbio, ma è qualcosa che è dentro ciascuno di noi. Subito folto il pubblico che già dal primo giorno ha potuto ammirare le procche d'autore di quest'anno, assieme a quelle create da molteplici artisti negli anni precedenti, per una manifestazione che divene maggiorenne, che continua la propria volontà di legare tradizione ed innovazione artistica e che proverà nei prossimi anni, magari con aiuti e sostegno che vanno oltre l'encomiabile passione volontariato, a crescere ulteriormente. Abbiamo mantenuto entro i limiti del possibile la formula iniziale con poche varianti, la principale delle quali è stata ad un certo momento in poi l'esposizione di parte delle brocche nelle vetrine negozi del centro storico, oltre che nel luogo in cui venivano presentate annualmente le nuove creazioni. La manifestazione è organizzata dalla Proloco, la Proloco come sai bene è un luogo di volontariato e quindi è difficile renderla, magari come le intenzioni porterebbero a fare, molto articolata. Se ci fossero risorse, sostanze, forse un salto ulteriore di qualità potrebbe essere immaginabile, però ci accontentiamo così.